inizia con l'apertura della salumeria in corso canal chiaro in centro storico modena la storia della famiglia fini personaggi importanti se venivano modena venivano al fini era un datore di lavoro ma sapeva ascoltarti da fini luciano pavarotti organizza il pranzo di matrimonio giorgio fini è stato stupendo l'accoglienza degli ospiti per telesforo e giorgio è al primo posto e tutti venivano a modena per riuscire a entrare nel mondo delle auto e nel 1960 giorgio fini apre un grill nel tratto modenese dell'autostrada del sole c'erano due casse che avevamo un market con dei prodotti di prima proprio pochi in italia conoscevano quasi nessuno l'aceto balsamico ma per tutti i giorgio fini è il mito della gastronomia